Prova, prova, prova. Funziona? Sì, funziona. Ogni tanto, a intervalli regolari di 5-6 mesi, penso ai videogiochi che hanno segnato la mia infanzia. E quindi mi vengono in mente, ad esempio, Abe's Odyssey, Monkey Island, Medal of Honor, perché quello mi piaceva all'epoca, oppure penso a Thrill Kill, questo picchiaduro violentissimo sviluppato dalla Paradox, la stessa casa che ha creato Europa Universalis e Earth of Iron, che venne addirittura bannato in America, perché è considerato troppo violento e che purtroppo oggi è sconosciuto dalla maggior parte delle persone, e di questo, devo dire, un po' mi dispiace, mentre a volte penso alle opere che ho giocato negli ultimi anni, o che ancora oggi gioco quando ho un po' di tempo libero. Quindi mi vengono in mente Capped, Gris, Sekiro, Omori, Undertale, oppure Isaac. Ma, una volta all'anno, mi viene in mente un titolo, E ogni volta che ci penso, nella mia testa risuona una frase Ma l'ho giocato veramente? O me lo sono soltanto immaginato? Questo è il caso di Punto per Punto. La risposta è no, non me lo sono immaginato. Ma facciamo un piccolo passo indietro, precisamente ai primi anni 2000. Questo sono io, un piccolo nerd dai capelli discutibili e un PC risalente al medioevo che, insieme ai suoi amichetti, provava i primi videogiochi. Di tanto in tanto, però, l'altro posto dove andavo a smanettare con il computer era il laboratorio di mio padre. Lì ho imparato a giocare a scacchi su Battle Chess, un titolo incredibile, sconosciuto da tutti probabilmente, che dovevo far partire tramite MS-DOS, pensate un po' che roba, e che aveva queste animazioni di morte uniche per ogni pedone, re, regina, cavallo che facevi fuori e che era una cosa incredibile, specie considerando che era un titolo dei primi anni 90 e, ragazzi, sta roba manco su No Man's Sky, praticamente. Pace all'anima sua. Un giorno, però, mio padre cambiò PC. Finalmente con Windows 98. Ah, un po' di modernità. E io inizio a giocare a titoli un po' più recenti. Ed è qui che arriviamo al punto focale della storia. L'altra mia passione, e di mio padre, sono sempre stati i motori e ogni mese, infatti, compravamo quattro ruote. Questo mensile, che ancora oggi esiste, che all'epoca andava fortissimo. Nel novembre del 99, però, in allegato, c'era questo CD chiamato Punto per Punto. Lo metto nel lettore, apro l'eseguibile e mi si para davanti questa schermata. No. Ti prego. Ora, immaginate un bambino di nove anni, con la passione delle macchine e dei PC, che fa partire questo CD nel proprio computer, ed è un gioco di auto. È praticamente la rappresentazione visiva del paradiso. Poi faccio partire il gioco, ed è il gioco dell'oca. Sì, ragazzi, è il gioco dell'oca. Perché mentre nel mondo intero, nello stesso anno, veniva presentato GTA 3 e Max Payne, la Fiat ha dato i soldi per produrre il gioco dell'oca. E allora ditelo che la vita fa schifo. E volete sapere la cosa più assurda di tutte? Cazzo se era bello, Punto per Punto. Ci ho passato le ore. Era bellissimo. E a questo punto, io lo so che voi potreste pensare. Vabbè, Leonardo, ma dici che è bello solo perché conservi il ricordo di quando eri bambino. E no. E no. E qua che vi sbagliate, cari amici. Avete presente l'intro che vi ho fatto vedere poco fa? Ecco, non è un video su YouTube, ma è l'estratto di una mia live su Twitch. Eh sì, eh, avete capito bene. Perché giocare a Lies of Pee o Starfield quando puoi fare tre spettatori live e giocare a un titolo che probabilmente anche gli sviluppatori negrano di averlo creato? E quindi, alla fine, com'è sto Punto per Punto? E ragazzi, esattamente come ricordavo, è ancora più o meno godibile. Capiamoci, non è invecchiato proprio benissimo, specie per i problemi molto gravi dati dal fatto che il gioco era studiato per i monitor da 24 kg in 640x480, mentre io l'ho giocato su un 27 pollici 2K e quindi lo vedevo così praticamente. Però, a parte questo, oh, parte al primo colpo ed è subito giocabile. E come funziona, Punto per Punto? Come detto poco fa, è letteralmente il gioco dell'Oka, solo che le pedine sono 4 punto di diverso colore e lungo la mappa di gioco, che, tra parentesi, è enorme, c'è in ogni casella un minigioco che assegna più o meno punti. Questi minigiocchi in totale sono 16 e sono, devo dire, tutti più o meno decenti. Si va dal Tamadog, questa specie di Tamagotchi in cui devi prendere le ossa con il cane. C'è la battaglia tra carri armati che si svolge sulle piste di circuiti elettronici. C'è una specie di gioco in cui puoi testare i tempi di reazione, cliccando sempre su Good, anche se hai il colore del Bad, perché altrimenti ti tolgono un botto di punti. Oppure il classico minigioco a quiz, dove, tra l'altro, ho scoperto che Fiat, negli anni 30, ha creato questo modello di auto chiamato Fiat Mephistofele. Una macchina in grado di raggiungere i 230 all'ora e che, ragazzi, potete vederlo anche voi, è praticamente una bara su ruote. Io non so neanche come sia possibile una cosa del genere. Ho ancora le domande di natura informatica fatte da Bill Games che io, ma dove cazzo sta finendo la mia vita? E poi, e poi... Non so neanche come dirvela questa cosa. C'è questo gioco, chiamato XXX, in cui, una volta premuto sulla scritta Enter Members Only, c'è questo gioco, Simil Pac-Man, dove, al posto delle palline, ci sono letteralmente dei capezzoli. Ragazzi, sono dei capezzoli e non potete dire il contrario, io non ho più parole per descrivere questa cosa. E punto per punto va avanti così, poi, fino alla fine, dove c'è una classifica in cui si fa il calcolo dei punti finali, purtroppo è impossibile terminare il gioco perché un paio di minigames sono un po' buggati e, una volta avviati, fanno bloccare tutto. E questo rende impossibile andare avanti perché, se capiti nella casella sbagliata, devi sostanzialmente ricominciare da capo. E quindi io mi sono chiesto, cosa si fa con questo punteggio, oltre a poter bullizzare i propri amici? E in realtà molto più di quello che avrei mai potuto immaginare. Purtroppo sul web non si trovano molte informazioni, come potete immaginare, ma c'è quella più importante, che è presente proprio sul sito Fiat, che ora è Stellantis, dove c'è la notizia ufficiale del lancio di punto per punto, con questa frase di introduzione. Fiat punto diventa videogioco e corre sulle strade telematiche di internet, che solo a leggerla mi sento un vecchio di 380 anni. E oltre a questo c'è scritto che sul portale Fiat non solo c'era la possibilità di inserire il proprio punteggio, ma di poter partecipare a un concorso con 11.111 premi, che è ok, che numero particolare, che comprendono, e cito testualmente, una Fiat punto nuova fiammante, un computer, corsi di guida sicura e abbonamenti alla rivista Quattro Ruote. E che volete di più ragazzi? Un gioco con una classifica online in cui puoi vincere una macchina? Altro che le edizioni limitate, gli orologi, i carillon, questo era veramente il futuro che noi volevamo. E niente, questo era punto per punto. In realtà non è che ci sia una vera e propria conclusione per questa storia, sappiate però che il gioco è liberamente scaricabile su archive.org, e vi lascio il link qui sotto in descrizione, e volevo soltanto portarvi con me, in questo piccolo rabbit hole, chiudere un cerchio e ricordare un videogioco e un'epoca che, probabilmente, non tornerà mai più. Grazie per aver visto questo video. Grazie per aver visto questo video.